Musica Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 11 del settimane sportivo di Fano TV. Più di 30 anni rappresentano un tempo sufficientemente lungo per costruire una storia, poi perché questa storia si elevia a tradizione bisogna aggiungere altro, continuità di impegno, radicamento sul territorio, crescita costante e anche risultati di alto livello. Insomma tutti quegli ingredienti che in questa storia ha infilato l'Aurora Ginnastica Fano di cui ospitiamo questa sera Paola Porfiri, presidente, buonasera. Buonasera. E Laura Zachilli che adesso è l'allenatrice dell'Aurora Fano ma è stata la punta di diamante del club per lunghi anni. Buonasera anche a te. Buonasera. Dicevamo di una storia iniziata alla fine degli anni 80, a Paola chiediamo quando e dove è nato tutto? Ma è nato tutto per la mia passione di questo sport e della ginnastica ritmica, pur non venendo dalla ginnastica ritmica perché io venivo dalla scherma. Ho visto un campionato d'Europa nel 1988, mi sono proprio innamorata e ho deciso di aprire una società Fano. Io già lavoravo presso un'altra società a Marotta. E come si è sviluppata poi questa storia? Si è sviluppata che ho avuto la fortuna di avere delle belle ginnaste tra cui Laura Zachilli, Manuela Bocchini, Sara Papi e con queste ginnaste l'Aurora è volata molto in alto nel giro di pochi anni. E quello che ha impressionato è stato soprattutto questo passo sperito. Nel giro di poco avete prodotto atlete che si sono poi distinte sulle pedane di tutto il mondo. Esatto, nel 1995 il primo scudetto e poi convocate in nazionale queste ginnaste Bocchini e Papi che hanno preso parte all'Olimpiadi di Atlanta nel 1996 e Laura invece all'Olimpiadi di Atene. E poi questi dieci scudetti, non è da tutti vincerne tanti, una stella che vi tenete ben appuntata sul petto, una lunga sequenza di affermazioni appunto in ambito nazionale a un certo punto quasi il campionato di ginnastica ritmica non aveva più storia. Eh sì, ancora abbiamo la stella solo noi ma probabilmente la società di Fabriano che ha in seno la campionessa del mondo ci supererà sicuramente. Naturalmente in tutti gli sport la ruota gira e quindi adesso è il momento di Fabriano ma noi comunque continuiamo a mettere ginnaste anche di alto livello. Anche perché ad un certo punto avete fatto una scelta diversa, avete rinunciato alle straniere e a proposito di straniere ne avete schierate di importantissime su tutte Alina Cabayeva. Puntate fortemente sulle ragazze del vostro vivaio e comunque con quelle ragazze del vostro vivaio anche in questi giorni avete conservato il posto in A1. Certo, ma questa è stata una scelta, una scelta societaria. Prendere la straniera ha senso solo se punti a un podio. Siccome noi abbiamo tutte ginnaste giovani inesperte ancora non è il momento di prendere una ginnasta straniera. Puntavamo per salvarci, per entrare, potevamo benissimo entrare nella Final Six in cui accedono le prime sei ma qualche ruolo di troppo non ce l'ha permesso. Però siamo arrivate ottave, rimaniamo in A1 e quindi siamo comunque ben contenti anche perché abbiamo schierato due piccole ginnaste nell'ultima. Abbiamo rischiato molto ma invece abbiamo giocato bene le nostre carte perché sono state bravissime. Questi dieci scudetti fanno parte del palmarès personale di Laura Zacchili assieme però anche a quattro titoli italiani a partecipazioni alle Olimpiadi, di Atene, a Mondiali, ad Europei con piazzamenti anche lusinghieri. Tu Laura quando ti sei avvicinata a questo sport e quando hai capito che era il tuo sport? Allora io ho iniziato ad approcciarmi alla ginnastica ritmica che avevo 4-5 anni, ero piccolissima. Ho iniziato in una società del mio quartiere di Sant'Orso e da lì un'allenatrice che già allenava nella società Aurora Fano mi ha portato da loro perché ha visto in me probabilmente qualcosa che avevo in più rispetto alle altre. E da lì ho iniziato il mio percorso con l'Aurora Fano che è iniziato nel 90-91 e da lì ancora ad oggi sono con loro. Nel 93 ho partecipato al mio primo campionato Juniorals, poi nel 95 il mio primo mondiale dove ero la più giovane della squadra, abbiamo vinto il primo scudetto con la società e da lì dal 98 al 2000 ne abbiamo vinti altre 9 consecutivi e poi è stato un susseguirsi di emozioni, di successo alle italiane. Ho vinto 4 titoli italiani assoluti nel 99, il 2000, il 2003 e il 2004, quindi insomma dai ho avuto un sacco di soddisfazioni. E poi per ultimo le Olimpiadi di Atene che hanno coronato la mia carriera. Credo che il sogno di ogni atleta sia partecipare alle Olimpiadi, a Sydney è restata riserva, ti sei rifatta ad Atene, che ricordo ti porti dentro di queste Olimpiadi? Beh, le Olimpiadi penso che sia la manifestazione, la gara più importante che un atleta possa, al quale possa ambire. È un orgoglio per me e penso anche per la mia società sicuramente averle potute fare e quindi me le porterò con me per tutta la vita. Rimango in un'esperienza unica e che mi porterò, ripeto, come sempre nel mio cuore. Adesso come ti poni rispetto alle tue allieve? Come la campionessa che ha molto da insegnare oppure ti immedesimi nei loro panni? Entrambe le cose, mi immedesimo molto perché comunque posso parlare con l'esperienza e cerco di dare tutto l'amore che ho per questo sport. Mi piace tanto lavorare con le piccole perché mi piace tanto crescerle, mi piace fargli capire il lavoro proprio iniziale, quello che serve per creare una ginnasta. Le adoro, mi piace, poi sono anche mamma e lavorare con le bimbe piccole mi dà tanto calore, tanto successo. Non è facile trovare una campionessa, ci vuole anche fortuna, è invece più legato al lavoro che si fa creare una base forte e in questo l'Aurora si è sempre distinta. Sì, abbiamo anche avuto la fortuna di avere non solo brave ginnaste dotate per questo sport perché naturalmente per l'alto livello ci vogliono le doti naturali di base. Poi ovviamente il lavoro, l'allenamento le può incrementare, le può potenziare, ma ci vogliono anche tecniche di alto livello come abbiamo noi, abbiamo Nani Londarizze che è tanti anni che è con noi, Giorgiana ma ha la cittadinanza ormai italiana perché è qua da quasi vent'anni ormai ed è una grande, la passione perché le tecniche se vogliono ottenere risultati devono avere la passione perché senza di quella non si ottengono i risultati. Come vi muovete a livello di reclutamento? Noi abbiamo nell'attività di base circa un centinaio di ginnaste e chiaramente ogni tanto Laura e Nana vanno a trovarle e hanno ormai l'occhio per individuare ginnaste che hanno delle doti insomma particolari per questa disciplina e quindi vengono inserite in un gruppettino di piccoline per cominciare a fare un tipo di lavoro diverso rispetto all'attività di base. Ovviamente nell'attività di base questo sport è aperto a tutti, è soprattutto una base per tantissimi altri sport. I nostri ginnaste sappiamo che sono andate in squadre di pallavolo, pallacanestro, atletica e raggiungono bellissimi risultati perché il nostro sport è una base per tutte le altre discipline. A Laura chiedo non tanto se c'è una nuova Laura Zaccilli nell'Aurora Fano quanto piuttosto se c'è qualche atleta che potrebbe togliersi delle soddisfazioni importanti senza fare nomi magari. Beh abbiamo una ginnassa che ad oggi comunque ha fatto il campionato di Serie A che è Giulia della Felice che sicuramente ci ha dato degli ottimi risultati. L'anno scorso è arrivata a quinta un campionato italiano assoluto che comunque è un ottimo risultato e ha vinto due medaglie di bronzo in due finali di specialità. Sta conseguendo il campionato di Serie A, ha fatto un buon campionato. Abbiamo poi Nicol Tammaro che è un'altra nostra ginnasta che è venuta da fuori per anerarsi da noi e abbiamo un sacco di bambine carine dietro su cui ci stiamo lavorando. Non dico altro perché poi non si sa però abbiamo tante bimbe carine che hanno tanta voglia di lavorare e di crescere e sicuramente magari li prenderanno anche come esempio perché no? Abbiamo già detto dell'età media molto bassa e dell'esordio che hanno fatto nell'ultima prova del campionato due giovanissime. Sì, Virginia Galeazzi che è un 2010 e invece Martina Pazzaglia un 2008. Alla loro prima esperienza, la loro prima gara di Serie A che ha detta anche di Laura che ne ha fatte insomma tante di gare, togliamo le Olimpiadi ma diciamo delle competizioni italiane è quella più adrenalinica la Serie A perché poi è un risultato di squadra quindi il tuo esercizio va a influire sul risultato di tutta la squadra per cui c'è una bella responsabilità. E queste piccoline Virginia ha aperto con il cerchio, è stata bravissima e Martina ha chiuso con il nastro. Non mi aspettavo una reazione così da queste due ragazzine. Paola Porfini non è soltanto presidente Anima dell'Aurora ma anche team manager da qualche anno della Nazionale di Ginnastica Ritmica Sport che ha avuto un'evoluzione straordinaria a livello di risultati, dalle farfalle fino alle performance attuali di Sofia Raffaele. Sì, dal 2017 che sono team manager il presidente mi ha nominato, ha inventato questa figura che mancava nella nostra disciplina, in tutti gli sport c'è il team manager. Il team manager è colui, con lei nel mio caso, che collabora con la direzione tecnica e che diciamo pensa più alla fase organizzativa delle competizioni, di tutte le delegazioni, le squadre che partecipano a tutte le competizioni internazionali. Ne abbiamo, insomma, adesso partono per Sofia domani e la nostra Giulia della Felice ha partecipato ad Atene due o tre settimane fa, entrando in una finale. Ecco, io mi occupo insomma di tutta la parte organizzativa e di fare in modo che tutto ciò che la direzione tecnica intende effettuare per avvalorare la nostra disciplina venga attuato. La cosa più importante è che da me esce il budget della ginnastica ritmica e quindi, insomma, è la fase più importante perché se non ci sono i soldi non si può fare nulla. Non possiamo ignorare che la ginnastica ritmica nei mesi scorsi sia stata investita da una serie di casi legati ad affermazioni di ginnaste che hanno lamentato vessazioni ai loro danni. Come avete vissuto quel momento e qual è la vostra lettura di queste vicende, Paola? Allora, ovviamente è stato ed è ancora tuttora perché non è finito, è un momento piuttosto difficile per la nostra sezione. Ma ci terrei a precisare prima di tutto che c'è da fare una distinzione tra le società e l'attività di alto livello, una squadra nazionale. Cioè qui si è fatta molta confusione. Le farfalle sono una squadra nazionale, le società sono un'altra. È ovvio che una direzione tecnica, una federazione non può sapere che cosa succede in tutte le società a meno che non ci siano delle denunce che in quel caso allora la federazione ovviamente si farà carico di seguire la questione. Quando tu entri in una squadra nazionale devi seguire delle regole. Questo è in tutto. non puoi fare quello che ti pare. Ti devi impegnare perché ci sono degli obiettivi molto importanti, campionati del mondo e soprattutto olimpiade. Quindi, cioè, la distinzione è da fare. Chiaro, in un'attività di società probabilmente qualcuno ha esagerato, io questo non lo metto in dubbio, ma quando si tratta di squadre nazionali bisogna essere disposti e questo lo può dire anche Laura, che lei è stata nella squadra nazionale per tanti anni. Devi seguire le regole, devi sottostare alla disciplina e seguire certe indicazioni che vengono fatte dalla direzione tecnica. Laura si è già espressa pubblicamente nei mesi scorsi su questa vicenda alla luce di quella che è stata la sua esperienza personale. Sì, io credo che lo sport ad alti livelli non sia per tutti, nel senso che bisogna avere molto spirito di sacrificio. Sicuramente ci sono delle regole e nel nostro sport specifico c'è da seguire un certo regime alimentare, perché sicuramente il fisico è molto importante, comunque in pedana bisogna dare questa idea della leggerezza, dell'armonia e ovviamente il peso e il corpo sono basilari per questo sport. Sicuramente ci sono dei sacrifici, come in tanti altri sport dove sicuramente il peso è molto importante. I sacrifici ci sono, però adesso credo che sia stata molto enfatizzata la cosa. E quindi adesso non voglio addentrarmi più di tanto, però credo anche che magari queste persone che abbiano denunciato forse non siano arrivate dove volevano. Ecco, dico solo questo. Poi sicuramente i sacrifici ci sono da parte di tutti e bisogna a volte anche saper fare un passo indietro. Dire non ce la faccio, mi ritiro, piuttosto che poi arrivare al limite e scoppiare. Ginnastica Ritmica, e passiamo ad altro, che ha prodotto grandi eventi anche sul territorio, in particolare alla World Cup, che per anni ha insediato il suo quartiere generale a Pesaro. Quest'anno non sarà così. Paola Porfiri ha fatto parte del comitato organizzativo della World Cup. Una perdita comunque per il territorio, non avere questo evento alla Vitri Frigo Arena. Certo, anche perché oltre le 13 edizioni, che poi sono diventate 12, perché un anno per il Covid ci siamo fermati, c'è anche un campionato del mondo che abbiamo fatto nel 2017, il primo campionato del mondo mai organizzato in Italia. Certo, c'è un certo dispiacere, anche perché ormai l'Arena di Pesaro era casa nostra. Però quest'anno, avendo dovuto spostare l'evento a luglio, come sappiamo l'Arena è tutta l'estate occupata da Rossini Opera Festival, quindi non era possibile effettuarlo, per cui ci spostiamo a Milano, che è una terra dove la ritmica fa da regina, insomma ci sono tantissime società. Non siete cadute male, insomma? No, al Forum di Asago è sempre un bel impianto. E qui ci allasciamo ad un altro discorso, che per quello che riguarda Fano è anche un nervo scoperto, quello della mancanza di un palazzetto dello sport. Per anni, oserei dire per decenni, l'Aurora, tra le altre società sportive, ha continuato a reclamare un impianto che consentisse di organizzare eventi di questa portata. Quest'impianto manca, tu hai fatto parte anche di un nucleo che era stato costituito dalla Comune per studiare ipotesi progettuali. In realtà questo discorso del palazzport, al di là dell'area di Chiaruccia, che è stata individuata, non ha avuto per il momento un esito. No, si è fermato tutto, nonostante io abbia più volte, insomma, anche con il sindaco, parlato per capire la situazione. Io capisco tutte le problematiche, capisco il Covid, capisco il terremoto, ci sono state tante, però Fano per crescere ha bisogno di un impianto sportivo. Ovviamente non intendo un impianto sportivo come l'Arena di Pesaro, ma un impianto sportivo di almeno 4.000, 4.500. Perché, allora, per esempio noi dell'Aurora potremmo organizzare, io organizzo come team manager campionati italiani in tutta Italia. Vado da Folgaria, Milano, fino in Sicilia, in Campania, eccetera, eccetera. Purtroppo non posso organizzare nulla nella mia città. E organizzare questi eventi, campionati nazionali, che si possono benissimo organizzare, anche delle competizioni internazionali, non parlo di un campionato del mondo, ma di un torneo internazionale, insomma, non solo del nostro sport, perché io ho fatto parte di questo tavolo, ma non è che ognuno di noi pensa al proprio sport. Cioè pensiamo alla polifunzionalità, anche per esempio a fare un concerto. E anche allo sviluppo di una città che troverebbe grande impulso anche dal punto di vista turistico ed economico. Certo, certo, perché, guardi, Pesaro da questo lato è stata molto intelligente, perché Pesaro si è salvata in molti anni proprio con il turismo sportivo. Perché non sono solo le competizioni, ma si possono portare a Fano, per esempio la federazione ginnastica organizza tutte le state allenamenti estivi, gruppi di 20, 25, 30 ginnaste, con le tecniche. Avessi un palazzetto qui a Fano potrei organizzare per tutta l'estate, potremmo avere gente, ma anche in periodi destagionalizzati, per dire maggio, giugno, settembre, no? Cioè porterebbe a Fano tanta gente, però purtroppo questo non sta avvenendo, quello che mi dispiace non dico che chiedo che venga costruito a breve, ma almeno che ci sia un progetto, perché tutto può suggerire. E anche l'idea di dove andare a reperire i fondi. E questo per carità, però intanto facciamo il progetto, perché se succede qualcosa, che ci sono dei contributi a fondo perduto, bisogna comunque presentarsi con le carte. Bisogna avere i progetti pronti, e non è questo, io sapevo che era stato accantonato a una cifra per fare questo progetto, poi non lo so se si è fermato, se è stato fatto, non è stato fatto, però il fatto sta che non abbiamo ancora nessun progetto. Ne abbiamo perse, mi pare, di opportunità, no? Anche per altre questioni, proprio perché non avevamo un progetto. Io mi auguro che non succeda anche con il palazzetto dello sport, perché Fano, terza città delle Marche, che sbanderiamo tanto, non ha un impianto, perché l'impianto che abbiamo, per carità, ma è un palestrone, ed era nato con un'etichetta palazzetto dello sport, che già all'epoca, 50 anni fa, forse stava un po' larga. Sì, beh, ma sai, quella volta, noi organizzavamo, quando facevamo la Serie A, con loro, campionati italiani, e la Serie A abbiamo fatto, lo chiamavano il Salotto d'Italia, ma avevamo due o trecento persone di pubblico. Adesso alla Serie A abbiamo mille e cinque, duemila persone di pubblico, anche in posti dove non si fa la ginnastica ritmica. Quindi, per noi, questo palazzetto, neanche più il saggio possiamo fare. Noi facciamo il saggio, non possiamo neanche fare la pubblicità, perché i genitori ci stanno e basta. Quindi io direi che serve proprio, e mi auguro che questo progetto prima o poi venga fuori. E con questo auspicio salutiamo Paola Porfiri, Presidente dell'Aurora Fan e Team Manager della Nazionale Ginnastica Ritmica, Laura Zacchili, campionessa. Ed ora, allenatrice, noi torniamo fra qualche attimo. E trasferiamoci al calcio occupandoci del campionato di promozione, dove ci sono due squadre che stanno marciando decisamente più forte delle altre. Una è il K-Sport Montecchio, sembra fare corsa a sé. L'altra è l'Urbania, seconda forza di questo campionato, in un momento decisamente brillante. Tre vittorie in fila, 11 risultati utili consecutivi e una lunga serie di successi, anche in casa. Ed è l'Urbania, ospitiamo questa sera il direttore sportivo Stefano Maggi. Buonasera e benvenuto. Ciao Andrea, buonasera e grazie per l'invito. E l'allenatore, Mirko Micioli. Buonasera anche a te. Buonasera. Dicevamo di un'Urbania in salute, l'ultima vittoria sabato contro il Villa San Martino. Ne era arrivata un'altra nel recupero infrasettimanale precedente. Un momento che frutta un secondo posto in classifica con vista playoff. Iniziamo proprio dalla gara che avete giocato, Mirko, con il Villa San Martino. Una vittoria non dico in scioltezza, ma comunque senza particolari patemi d'animo. Beh, nessuna partita in scioltezza si vince. Abbiamo faticato la prima parte anche perché venivamo da un mercoledì impegnativo contro la Vigor Castelfidardo. Perciò poi la prima parte è stata impegnativa nel senso che ci hanno aggredito, ci hanno messo un po' in difficoltà. Poi fatto il gol un attimino la partita è andata diciamo in discesa, anche se non era proprio una discesa. Però poi ci siamo un po' sciolti e siamo andati molto meglio della prima parte. Avete trovato anche quegli spazi di cui avete saputo approfittare? Beh, certo. Poi quando vengono ad attaccarci noi abbiamo caratteristiche di un certo tipo, con certi tipi di attaccanti, che poi possiamo mettere in difficoltà tante compagini, tante squadre. Avete rischiato poco o niente? Mi pare soltanto un episodio in cui Carsetti su palli inattiva ha colpito alla traversa? Sì, solo in quell'occasione abbiamo rischiato, però tutto sommato credo che sia stata una vittoria meritata. A spianarvi la strada un autogol, poi avete legittimato nel corso del match trovando anche un'altra rete con Pagliardini, capocannoniere del campionato, 17 gol. Maggi cosa si può dire di questo giocatore che aveva già dimostrato ampiamente le sue qualità peraltro? Ma certo, Pagliardini sicuramente non lo scopriamo noi quest'anno, un giocatore che ha i gol nel sangue e certamente quest'anno noi ne traiamo beneficio. È un giocatore assolutamente determinante per noi, ma anche secondo me in categorie superiori. Però non mi limiterei solo a Pagliardini perché abbiamo una squadra secondo noi importante per la categoria, una squadra che può raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati con la società ad inizio anno. Diciamo che chi fa gol ha sempre ragione, Pagliardini è uno di questi, poi chiaramente non è che un attaccante così in confidenza con la porta avversaria risolva tutti i problemi. Come è strutturata questo urbano, Miccioli? Quali sono le peculiarità? Beh, intanto dico che c'è una società sana, un ambiente sano, un ambiente dove c'è passione per il calcio e proprio anche per questo ho scelto di andare a Urbania. È una squadra costruita bene, che ha avuto difficoltà le prime 6-7 partite, probabilmente perché si veniva da una retrocessione che sinceramente ha fatto male. Come tutte le retrocessioni. Però poi andando avanti, anche con i ragazzi che erano l'anno scorso, che sono stati, che sono retrocessi in pratica, si sono ripresi, ci siamo ripresi con i due o tre acquisti che il direttore ha fatto, con Paradisi, Pagliardini e Braccioni. E poi da lì abbiamo preso il via. È una squadra che lavora bene, mi piace allenarla, sinceramente, perché è fatta di bravi ragazzi, oltre che di buoni giocatori. Però tutto gira intorno a questa società, perché è una società sana, una società che non ti fa mancare niente. È un ambiente dove piace che la squadra stia a certi livelli, perciò è un ambiente sereno, tranquillo, dove piace molto lavorare. Si può dire, Maggi, che questo campionato di promozione stia un po' stretto ad Urbani? Purtroppo l'anno scorso, dopo 15 anni di eccellenza, è arrivata questa retrocessione. Una retrocessione, come diceva il mister, sicuramente balorda. Fermo restando che avevamo fatto un girone d'andata, comunque più che positivo, con la squadra che ha sfiorato la zona play-off, purtroppo il girone di ritorno e la fatidica gara play-out con l'Urbino ci ha condannato alla retrocessione. Sì, onestamente sta un po' stretta, però la realtà in questo momento è la promozione e stiamo facendo di tutto pur di ritornare in quello che è il campionato che l'Urbani ha fatto negli ultimi anni. Fermo restando che non è facile, non sarà facile, non c'è solo il K-Sport Montecchio che ad oggi ha tutte le carte in regola per ambire al salto di categoria e credo che lo farà senza nessun tipo di problema, però oltre a noi nella zona play-off ci sono altre squadre che possono dire la loro, penso i Portuali, Ancona, penso la Vigor Castelfigardo, lo stesso Gabicce, quindi mancano ancora sette giornate, stiamo facendo sicuramente un campionato positivo, dobbiamo far sì che sia ancora più positivo da qui a giugno. Hai fatto riferimento alla lunga permanenza nel campionato d'eccellenza, ma ricordiamoci che in precedenza l'Urbani ha militato a lungo anche in Serie D facendo sempre la sua figura. Sì, questo è vero e va dato merito alla società, come ha detto il mister poco fa, è una società che non ci fa mancare assolutamente niente, è una società dove ci sono tutte le condizioni per fare calcio in una certa maniera. Anche quest'anno che siamo in promozione, francamente, per come lavoriamo, per le strutture che ci sono, per le disponibilità della società. E anche per il seguito, credo, che avete creato. Perché comunque nel nostro stadio, ma anche in trasferta, siamo seguiti da tanta gente, questo non fa che farci piacere, quindi vogliamo far di tutto per regalare al nostro pubblico una soddisfazione anche per oscurare quella che è stata la stagione dell'anno scorso. Senza dargli del vecchio, comunque Omiccioli ha già ormai una lunga carriera alle spalle e questo matrimonio con Urbania è un déjà vu, perché qualche anno fa Omiccioli alla guida di Urbania fu artefice di una salvezza che ebbe del clamoroso, tant'è che gli venne affibbiato il nomignolo di sindaco di Urbania. Senti la responsabilità di questa etichetta? Ma fa piacere che mi stimino e perciò contraccambio, perché io comunque stimo tutto l'ambiente di Urbania. Sì, avevamo fatto un miracolo allora e spero infinitamente di farlo ancora, di portare veramente l'Urbania al campionato che gli compete, l'eccellenza, magari anche di più, però intanto arrivare in eccellenza, perché una squadra è una società, un paese che merita, merita veramente, pagherei sinceramente per portare questa squadra a vincere il campionato anche attraverso i play-off, perché penso che credo che ormai il K-Sport abbia un vantaggio cospicuo, perciò credo che sia difficile, solo loro lo possono credo perdere, però è anche difficile poi nei play-off, sarà dura perché comunque ci sono squadre importanti, squadre che sono state costruite per vincere, però noi non saremo da meno, sperando di arrivare in una classifica importante, intanto prima entrarci e poi entrare in una classifica dove hai qualche vantaggio in più giocando in casa. I risultati dell'ultima giornata, dicevamo ovviamente della vittoria larga dell'Urbania sul Villa San Martino che è una delle squadre che si stanno battendo per non retrocedere, il K-Sport-Mortecchio che pur era andato sotto con il Valfoglia che è una delle pochissime squadre, credo due che l'abbano battuta, era passato in vantaggio anche in questa occasione ma poi è stato rimontato, mentre per quello che riguarda la bagarre per i play-off fa certamente notizia lo stop parziale che il San Costanzo, già virtualmente retrocesso possiamo dirlo, ha imposto ad una squadra che invece ambisce ad un proseguimento della stagione come i Portuali. Andiamo a dare un'occhiata anche alla classifica per verificare meglio i rapporti di forza, 13 punti di vantaggio del K-Sport-Montecchio dietro l'Urbania-Portuali-Ancona-Fermignanese in un momento ugualmente molto positivo, anche il Gabice Gradara sta marciando, Santorso che invece ha dovuto incassare uno stop nell'ultimo torno sul campo della Vigo, il Castelfidardo che peraltro è altra squadra che si sta impegnando non poco per raggiungere i play-off. 13 punti di ritardo, ma se andiamo a rileggere la storia di questo campionato, quei 13 punti sono maturati tutti nella primissima parte. Questo è un ramarico forte? Sì, sinceramente sì, perché nelle prime 6-7 partite credo che non siamo stati all'altezza della situazione, ma per ovvi motivi, per tanti motivi. D'altronde il Montecchio non ha perso mai nessun punto, e perciò hanno preso questo largo vantaggio e da lì è stata difficile. Poi abbiamo perso questo scontro diretto da loro che, sinceramente, gestita diversamente, potevamo fare qualcosina di meglio. Non è andata così, però onore e merito a loro. Però noi stiamo facendo una grande stagione, sinceramente anche a livello di risultati, ma anche a livello di gioco stiamo facendo molto bene. Ormai penso che non ci sia... Io la speranza la tengo sempre, perché giustamente bisogna tenerla. Poi con gli stessi miei giocatori dobbiamo pensarlo, fino in fondo. Non sarà facile, però... D'altra parte comunque più punti si fanno, ci si garantisce la miglior posizione possibile nei play-off e dunque in un'ottica promozione è sempre qualcosa di sicuramente rassicurato. Dobbiamo fare queste ultime sette partite e fare più punti possibili. Poi vedremo come saremo e sperando di riavvicinarsi e magari prenderli, ma sarà molto difficile. La classifica, ma non solo quella, anche il budget. Sembrerebbe suggerire un'idea. Il K-Sport ha fatto un campionato, l'Urbania sta conducendo il campionato dei normali. È una lettura corretta, Maggi? Numeri alla mano sicuramente sì. A me non piace parlare di budget, perché chiaramente ognuno nelle proprie società ha le proprie disponibilità e fa i conti con quello che ha. Come ha detto il mister poco fa, onore e merito ai nostri avversari, perché onestamente non c'è mai stato, a parte un paio di momenti, forse due sconfitte casalinghe consecutive, se non sbaglio, nel giro dell'andata, non hanno mai dato segnali di cedimento e sì, da parte nostra il rammarico di un inizio, direi, forse esagerato dire non all'altezza, sicuramente un inizio non in linea con quello che è l'attuale momento dell'Urbania e il percorso che stiamo facendo, perché come dicevi prima tu, parliamo di 10-11 risultati utili consecutivi. Quindi dai, ci crediamo, pensiamo che comunque in queste ultime sette partite abbiamo le possibilità per fare tanti punti, arrivare nella migliore posizione possibile, nella migliore condizione possibile, perché poi dopo anche i play-off sono un po' un ternolotto. Sì, la storia dei play-off insegna che la spunta non tanto chi arriva nella posizione migliore, ma chi arriva nella condizione migliore, vero Micioli? Sì, sicuramente, magari tutti pensano, arriviamo secondi, arriviamo terzi, migliore griglia, tutto quanto, poi però ci devi arrivare nella forma migliore, con i giocatori che stiano tutti bene e perciò dai, devi solo sperare di fare, intanto finire bene il campionato e di arrivare nella migliore posizione possibile, però non è detto. Tenendo d'occhio anche il differenziale di 10 punti rispetto ad una quinta che vi garantirebbe il passaggio automaticamente alla finale play-off di Gironi. Beh, anche quella è una cosa importante, perché facendo tanti punti magari potresti non fare i play-off e andare magari alla finale direttissima, perciò è un discorso importante, anzi molto importante che noi di questo dobbiamo anche sperare e pensare di arrivare bene, cioè di allenarci bene, di poter arrivare a non farli questi play-off, perché comunque, come diceva il direttore, sono un ternalotto, ci arrivi magari per un episodio, oppure non arrivi bene, poi magari ti manca qualche giocatore importante e magari vai a perdere una stagione che per adesso è molto importante. Analizzando la classifica, c'è una squadra che ti colpisce per il rendimento che hai espresso e che magari alla vigilia non era pronosticabile? C'è invece magari una formazione che avresti visto alla vigilia della stagione un po' più in alto? Beh, guarda, una è la Vigor Castelfidardo, pensavo che fosse più in alto, perché giocandoci all'andata mi aveva fatto una buona impressione, aveva idee importanti di gioco, aveva una sua identità e perciò avevo fatto anche al loro allenatore i complimenti. Poi chi sta facendo bene, sinceramente, le altre non conoscevo, un campionato che sinceramente non conoscevo e perciò mi ha stupito, in senso positivo, nel senso che ho trovato buoni giocatori, buone squadre, buona organizzazione, bravi allenatori. Chi mi sta stupendo è il Sant'Orso, sta facendo bene, è una squadra che magari nessuno ne parla. Tutti hanno detto squadra pensata per la categoria. Sì, e sta facendo bene, con entusiasmo, tutto quanto. Poi le altre, il Gabice Gradara l'ho vista in casa e ci giocheremo l'ultima, mi ha fatto una buona impressione, è allenata da un ragazzo di Fano, da Vergoni, perciò tutte mi hanno fatto una buona impressione, però queste in particolar modo. Una squadra con una fisionomia molto definita, questa urbagna, lo dicono i numeri, secondo miglior attacco, seconda difesa meno perforata. Quando i numeri sono di questa portata qui significa che comunque l'impronta alla squadra si è data. Sì, di questo sono contento, però do merito veramente ai ragazzi, perché i ragazzi stanno lavorando tanto. Noi facciamo quattro allenamenti alla settimana e non li fanno tutti, però è per completare un lavoro settimanale ci vogliono quei tipi di allenamento, stanno facendo sacrifici, perciò è gente che lavora tutta la giornata, si alza presto la mattina, arriva al campo con entusiasmo, stiamo lavorando con grande intensità, per quanto riguarda siamo in un campionato di promozione, non so quanta gente, quante squadre si allenano quattro volte con un certo tipo di intensità. Perciò la scorsa settimana, per farti un esempio, ci siamo allenati sei volte su sette, perciò tanti sacrifici da questi ragazzi e spero che si venga premiati da questo. Uno sguardo al Girone B lo state già lanciando, Maggi? Così, chiaramente ogni domenica si va a vedere i risultati, è un girone dove tra la prima e la seconda, al momento c'è meno differenza, con l'Aurora 3 a distante 5 punti dalla Cinevita Novese, ma ho visto che ci sarà la penultima giornata, lo scontro diretto fra le due e vedo che c'è già la distanza utile per non disputare i play-off, quello sì, perché ci sono 13 punti tra la seconda e la terza ed è un dato che mi è andato all'occhio, non di più, perché non vorrei andare troppo oltre. Ci penserete a tempo debito. Ringraziamo Stefano Maggi, direttore sportivo dell'Urbania, Mirko Miccioli, allenatore della squadra Durantina. Noi ci rivediamo tra qualche attimo. All'interno di Sportissimo ci piace dare uno sguardo a realtà meno note e con cui il pubblico ha meno confidenza. Una di queste realtà e fa parte a pieno titolo del ventaglio degli sport è il breakdance o braking, come si ama definirla adesso. È entrata infatti a far parte questa disciplina del ventaglio degli sport olimpici a Parigi 2024. Si ballerà la breakdance e si gariggerà con la breakdance. Ad aprire questo fronte a Sportissimo saranno Lorenzo Grilli, tecnico Fizz. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, buonasera a tutti. E l'altro tecnico Fizz, Thomas Venturini. Buonasera a tutti. Breakdance. Noi abbiamo imparato, almeno quelli della nostra generazione, a conoscerla negli anni Ottanta grazie anche dei film che hanno reso popolare questa danza di strada che si inseriva all'interno di un fenomeno, quello della cultura, il pop. Ma di tempo ne è passato nel frattempo e c'è stato recentemente questo riconoscimento come uno sport vero e proprio. Cos'è successo in tutti questi anni, Grilli? È successo che è avuto tantissimo riscontro. Siamo diventati disciplina olimpica dai giochi olimpici di Buenos Aires del 2018. Quindi questo porta i ragazzi a iscriversi, a tesserarsi, ad allenarsi e a crescere ancora di più. Il movimento sta cambiando, la realtà sta crescendo e speriamo di andare nella giusta via, diciamo. Un passaggio, quello da danza di strada a disciplina sportiva che non è stato in dolore. C'è qualcuno che ha storto il naso fra i puristi? Sì, diciamo che la scena breaking italiana è divisa in due parti. C'è chi è a favore dell'Olimpiadi e c'è invece chi non è a favore e che rimane nell'underground e nella strada. Quindi siamo ancora combattuti su questo, però ci porta ovviamente ad andare verso l'Olimpiadi, sempre in quella direzione lì. Nel vostro punto di vista dunque questo salto è un salto di qualità. Venturini, cosa richiede però adesso la breaking? Cosa bisogna fare per essere atleti di breaking? Ok, intanto volevo aggiungere che all'interno della federazione danza sportiva, appunto, questa è la prima disciplina di tutte le discipline di danza sportiva. La più diffusa? No, no, è la prima scelta per fare l'Olimpiadi, quindi è la prima che appunto è entrata all'Olimpiadi, nonostante tutte le altre discipline. Detto questo, il breaking cosa richiede? Chiede, dal mio punto di vista o dal nostro punto di vista, perché io e Lollo ci confrontiamo sempre, richiede veramente una disciplina importante, perché non si parla più di una danza di strada, ma diventa veramente uno sport, uno sport olimpico. Quindi ci vuole veramente tanta dedizione e una preparazione anche fisica adeguata. Sì, sì, è olimpica. Quindi ho visto noi, avendo fatto corsi in federazione, abbiamo visto che comunque la nostra federazione sta lavorando tantissimo per questo e io mi auguro che possa veramente portare alla bandiera italiana dei buoni frutti. Lorenzo, come funziona una gara di breaking? Allora, ci sono varie tipologie di gare. Se parliamo della gara olimpica, è previsto un uno contro uno, cioè vuol dire che ci sfidiamo uno contro l'altro e le gare sono addentrate. Quindi uno entra e l'altro risponde. Poi ci sono ovviamente la giuria, che sono tecnici, federali oppure giudici olimpici, che valutano un po' tutto. Valutano la musicalità, valutano l'esecuzione dei passi, la personalità. Ci sono vari criteri di giudizio. E questa è la linea che ha adottato la WDSF, che è la World Dance Sport Federation, per le prossime olimpiadi appresi 2024. Lorenzo Grilli e Thomas Venturini sono tra l'altro i due unici tecnici federali delle marche. E non sono molti in Italia, mi dicevate una trentina. Questo è un motivo di vanto per voi? Sì, dai. Come diceva prima Lollo, il mondo del breaking si è un po' diviso, quindi un po' dentro, un po' fuori. Noi abbiamo deciso di esserci perché comunque lo sport è un motivo di crescita per noi, di crescita e impegno perché il breaking ha un'opportunità diciamo in sostanza e noi vogliamo valorizzare questa opportunità per poterla farla crescere. Le olimpiadi regalano sicuramente una dignità e anche una visibilità che altre manifestazioni e altri eventi non possono sicuramente regalare. Veniamo al territorio. Quanto è seguita e quanto è praticata la breakdance qui da noi? Allora, noi siamo attivi sul territorio da circa 25 anni. Imballiamo e insegniamo. Abbiamo varie fasce di studenti, varie fasce d'età. Partiamo dai cinque anni per arrivare fino ai 24-25 anni. Insegniamo in tre scuole del territorio, tra cui una è a Fano, una a Lucrezia e una a Colagna. Portiamo avanti, diciamo, tra virgolette la new school. Cerchiamo di coltivare i cosiddetti talenti sperando un domani di portarli alle olimpiadi. Questo non lo sappiamo. Siamo sempre al lavoro per questo, per raggiungere questo obiettivo che ci impone anche la federazione come tecnici. Abbiamo visto dei bambini ritratti in una delle immagini che stanno scorrendo. C'è interesse tra i più piccoli per questa disciplina. Sì, l'interesse è aumentato tantissimo negli ultimi anni. La fascia d'età, quella che abbiamo maggiormente allievi, sono proprio dai 5 ai 12-13 anni. Quindi, secondo me, perché vedono che sia uno sport completo a livello fisico, anche a livello mentale. Poi noi facciamo gruppo, quindi è una cosa importante, secondo me, a quell'età. Poi diamo costanza, diamo serietà, diamo allenamento. In quello che facciamo abbiamo un programma. Da questo punto di vista è una preparazione quella del breaking che torna utile complessivamente alla formazione anche fisica del bambino e della bambina? Assolutamente sì. Preparazione fisica, preparazione mentale, atletica, tutto. Ritmica. Ritmica, musicalità. Musicalità, eccetera. Quanto la diffusione della cultura hip hop, anche qui da noi, ha contribuito alla diffusione del breaking? Vediamo tanti ragazzi, no, anche con l'abbigliamento, in qualche modo ispirarsi a questo fenomeno. Ma io credo che ci sia stato anche un, come posso dire, un'escalation di questo mondo, di hip hop, perché io mi ricordo, se torno indietro, di venti anni fa eravamo veramente pochi gatti, scusatemi il termine. Adesso c'è... Si dice un fenomeno di nicchia. Di nicchia, ok, detto in maniera... Ok, invece adesso con questa musica, che un po' gira anche, no, nelle radio si sente, ha, diciamo, aumentato questo modo. Comunque le persone si abituano alla musicalità, quindi è una cosa che è ormai diventata quasi normale ascoltare questa musica e rende sì che questi ragazzi possono poi approcciarsi a quello che è il mondo dell'hip hop, che poi racchiude quattro elementi, tra cui il breaking. Il binomio fra breaking e rap è ancora così stretto? Assolutamente sì, praticamente vediamo concerti di rapper famosi tipo Mondo Marcio, Fabi Fibra, oppure Rancore, dove ci sono i rapper che cantano sul palco e ci sono i breaker dietro che ballano, che fanno scenografia all'evento, diciamo, al concerto. Quindi il binomio è molto stretto, così come è stretto anche il binomio con il writing, che sarebbe i graffiti, oppure il DJ, che sarebbe il DJ che screccia, che butta su musica, il pop. Quindi è una cultura che lega quattro elementi, siamo saldamente legati. E anche questo fatto di scratchare è una cosa che ci portiamo dietro da tanti anni e che evidentemente resiste. Esatto, esatto, arriva dagli anni 70-75, è nata nel Bronx, sono scratch, quindi ce lo portiamo avanti tuttora. Ci sono campionati di scratch, in giro per il mondo, si chiamano DMC World Scratching e quindi fa parte anche questa della cultura di pop. Allarghiamo lo sguardo. In Italia che punto è il breaking e con quali credenziali ci si può presentare all'appuntamento olimpico? Secondo me, ora, stiamo lavorando bene, adesso non parlo, magari so che la nostra nazionale sta lavorando con dei tecnici professionisti, con un supporto, diciamo, non indifferente. non mi posso sbilanciare perché secondo me sarà dura. Primo, diciamo, primi le Olimpiadi arriveremo veramente, sarà un impatto forte, quindi dovremo lavorare veramente con tanta serietà e dovremo essere veramente agguerriti per poter affrontare questa cosa. Io lo spero ovviamente da tifoso italiano, da tecnico italiano, da ballerino di breaking italiano. Spero che possiamo arrivare veramente con un grado che ci possa far, diciamo, contraddistinguere a livello mondiale. Al profano verrebbe da pensare che i più forti siano ancora gli americani, che la breakdance l'hanno inventata. Non è proprio così. Non è proprio così. Infatti parecchi dicono, ma gli americani sono i fortissimi, l'hanno inventata loro. È un po' come, diciamo, il calcio, l'Inghilterra, no? Sono proprio i più forti nel calcio. E così succede nel breaking. I più forti attualmente, secondo me, sono gli asiatici. Quindi parliamo dei giapponesi, parliamo dei coreani, parliamo dei taiwanesi. Anche i russi, che ultimamente stanno crescendo molto. Speriamo che anche l'Italia sia nei primi... Nel caso degli asiatici credo contribuisca il fatto che questa elasticità genetica consenta magari di compiere delle evoluzioni che ad altre sono negate. Esatto, ma hanno anche un'altra mentalità di approccio al lavoro, hanno tutta una preparazione atletica dietro. Magari il rigore, diciamo. Il rigore potrebbe essere il rigore, la mentalità del rigore. Il metodo con cui sviluppano anche questa attività. Breakdance, della quale voi siete in pratica due pionieri sul territorio. Come interpretate questo ruolo, ora che avete un seguito che prima magari non c'era. Cioè, interpreto nel senso come lo vivo io nella mia vita. Esattamente. È una soddisfazione vedere che dopo tanti anni in cui si è seminato e non sembrava crescesse nulla, finalmente qualcosa si vede. Sì, no, dicevo appunto, ancora oggi, stando a contatto con i miei ragazzi, essendo più grandi, ancora mi trovo a dire, oh, ciao bella, come stai? Cioè, nel senso, un bella, nel senso come saluto, oh, è capitato che l'ho detto anche al mio datore di lavoro. Quindi botte di gioventù, insomma. Sì, no, 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 non riesci mai a definire, sai, sempre, sempre stando qui. Però va bene, no, noi ci sentiamo partecipi, con i ragazzi vogliamo veramente trasmettere quello che è la passione del breaking, che alla fine è una danza che parte piano, ma è una danza in salita, ha un percorso veramente evolutivo, sempre a crescere. Anche se si fa sul piano. Anche se si fa sul piano. Assolutamente sì. E quindi i passi vanno sempre a crescere e, per fare esempio, io alcuni li chiamo passi, ci ho badato anche due anni per impararli, quindi ci deve essere una costanza, una devozione, una volontà per poter crescere, quindi non è facile. Per tutti gli sport, per emergere, bisogna metterci quel qualcosa in più, al di là di doti naturali, che ovviamente bisogna possedere. Esattamente. Breakdance, che sul territorio sarà il centro anche di un evento importante la prossima estate, di che cosa si tratta? Esatto, allora stiamo organizzando qui nella città di Fano per il 19 d'agosto una gara internazionale di breakdance, internazionale perché internazionale, perché ci arriveranno tre giudici da fuori, uno dalla Cina, uno dalla Corea e una ragazza dalla Polonia. Spero che avremo tantissimo riscontro mediatico anche da parte di tutta la scena italiana ed è una qualifica importantissima perché il vincitore che vincerà a Fano andrà a rappresentare l'Italia al Mondiale in Taiwan il prossimo 6 settembre. Che sarà, credo, anche un'importante tappa di avvicinamento alle Olimpiadi. Esatto, esatto, è un'importante tappa di avvicinamento, quindi per la città di Fano è una grossa cosa. Dove si svolgerà questo evento? Allora, si svolgerà all'Arena BCC, qui a Tre Ponti, all'Aperto, il 19 d'agosto. E al di là del fatto che si tratti adesso di un evento sportivo, è anche un evento che regalerà spettacolo? Assolutamente sì, regalerà spettacolo, quindi tutti i fanesi sono invitati a partecipare. Chi non conosce la breakdance avrà occasione di poterla conoscere dal vivo, vedere i migliori ballerini in Italia che si potranno sfidare. Quindi vi aspettiamo tutti il 19 d'agosto all'Arena BCC per il board to the floor. Quindi un invito che estendiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo e che magari sono rimasti come me agli anni 80 e quindi devono recuperare del terreno. Per concludere, qual è l'auspicio, l'augurio che vi fate per il futuro di questa disciplina, per la vostra attività all'interno delle scuole che state sviluppando e per il movimento in generale? Da parte mia l'augurio è quello di farlo sempre con la passione che ci accomuna da tantissimi anni, avere tantissimi allievi per poterla condividere questa passione e farla conoscere il più possibile alla gente che non l'ha mai vista o che non conosce. E da parte tua, Thomas? Il mio augurio è di poterla diffondere in modo anche più semplice possibile, anche un approccio semplice per poterla poi farla crescere e farla diventare. Entrando magari anche in ambienti nei quali non siete ancora arrivati, non so, penso alle scuole piuttosto che ad altre realtà. Perfetto, anche quello appunto, quindi di poterla farla crescere in ambienti dove appunto non siamo arrivati perché chi magari non sa di poter avere questa capacità così, di potersi appassionare a quello che è un ballo fondamentalmente bellissimo, che trasmette tanta passione e detto fra noi, quando balli trasmetti te stesso. Chiunque balla breakdance è diverso dall'altro perché proprio trasmette il proprio se stesso. Ognuno ha il suo stile che si manifesta nel pavimento. Un tema che tocchiamo sempre con i nostri ospiti è quello legato alle strutture. Per la breakdance magari non c'è bisogno di grandi spazi, però più spazi ci sono meglio è, anche nel vostro caso. Più spazi ci sono meglio è, soprattutto l'unica cosa di cui noi necessitiamo è un pavimento liscio, un parquet oppure piastrellato, ovviamente il cemento perché se no ci spacchiamo tutti. è questo quanto. Quindi nelle nostre strutture balliamo col parquet per terra, quindi andiamo bene così. Ok, grazie a Thomas Venturini e grazie a Lorenzo Brilli. Grazie a voi. Entrambi i tecnici Fizz. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito anche in questa edizione di Sportissimo. Confidiamo, come sempre, che lo facciate. Anche la prossima settimana. Grazie a tutti.